Che cosa prenderà il via a venerdì prossimo? Allora, a venerdì 4 settembre prenderà il via la quinta edizione della sagra Bruschetta Vino e Fantasia, Cannavaccio di Urbino. Quest'anno tante le novità, prima di tutto dal punto di vista gastronomico, infatti abbiamo voluto caratterizzare quello che è il nostro piatto tipico, la bruschetta, e perciò oltre al consueto piatto di bruschetta fantasia, quest'anno avremo tre diverse varianti di bruschettone, nonché quelle che sono delle bruschette dolci. Sì, inoltre invitiamo tutti anche quello che sarà il pranzo della domenica di pesce, in collaborazione con i ristoranti della zona, e tra le novità comunque anche quelli che sono mercatini, di artigianato, di prodotti locali, quelli che sono laboratori, sia per grandi che per piccini, come il laboratorio per fare il vino, il laboratorio per creare cesti di vini, quindi imparare comunque quelle che sono attività manuali e non per portare avanti la tradizione. Si alterneranno anche dei gruppi musicali? Sì, infatti abbiamo pensato proprio tutti, oltre a quello che è l'ISC per chi avrà voglia di ballare, avremo anche uno spazio e concerti con musica dal vivo per i più giovani, venerdì 4 settembre con il Diavolo e l'Acqua Santa e sabato 5 settembre con gli strani vari. Ci sarà un ricco programma previsto per questa edizione? Sì, a cominciare da venerdì 4 settembre con la gara podistica, che è uno dei primi appuntamenti, denominata la Brombolona Run. Un percorso all'interno della festa, del territorio della festa e tutti sono pregati di partecipare naturalmente e finiremo in tutto il tutto con un momento conviviale all'interno della festa. Il sabato 5 settembre ci sarà un'iniziativa chiamata dal campo al piatto, è un convegno dove vengono chiamati in causa i produttori locali del biologico e velocemente riusciremo a dare un'idea di cosa vuol dire produrre e utilizzare prodotti a chilometro zero. La domenica avremo il clou della festa con un'escursione in mountain bike, spedalando, inserito in un circuito di passeggiate cicloturistiche in mountain bike. avremo un raduno di auto d'epoca nel piazzale della parrocchia con visita al Palazzo Ducale. Ci teniamo moltissimo perché stiamo ottenendo telefonate, quindi richieste di partecipazione anche da fuori regione. Quindi chi volesse ancora in tempo con auto d'epoca a partecipare a questa iniziativa. Ricordo, visiteremo il Palazzo Ducale e ci fermeremo anche in Urbino per un piccolo momento di amicizia insieme. Il clou sarà dal punto di vista enogastronomico la degustazione di vini a cura dell'associazione italiana Sommelier Urbino Montefeltro in un ambiente ricreato ad hoc chiamato la Vecchia Cantina. La degustazione guidata avrà per tema e come momento clou le bollicine nel bianchello. E vi aspettiamo tutti alla nostra festa vino, bruschetta e fantasia.